Belli amici terrestri, qui è The Alien, ed oggi siamo qui con il mio ventinovesimo e assoluto gameplay. Siamo qui sul grande emetico Marquecos Getting Up. Impostare il notebook? Sì, sempre e solo. Impostarlo. Facciamo questo qui con la gran gnocca. Poi facciamo così il graffito, bello. E così, ma di questo colore. E a posto. Ma evitiamo di cianciare troppo ed iniziamo la sfida. Attenzione! Questi tizi pestano carne 14 ore al giorno. Non vorrei si sfogassero con me. Oh, uno schermo. Bella ragazzi, qui è il train. Ed oggi siamo qui a graffitare un altro posto. Siccome lo scorso video ha raggiunto ben 250.000 like. E per questo nuovo video vi chiederò di arrivare almeno a 500.000 like. E per lo speciale un milione di iscritti graffiteremo un altro posto. Ma sarete voi a chiedermelo. E per quelli che mi stanno adesso vedendo nella vita reale. Non solo faccio il graffitaro, ma faccio anche lo youtuber graffitaro. Allora ragazzi del gioco che mi state appena vedendo. 500.000 like se volete che vada a graffitare un altro posto. Ma stavolta sarete voi a scegliere il luogo. Scrivendemelo solo qua sotto nei commenti. Ma evitiamo di cianciare troppo ed iniziamo la Big Adventures. Passate anche al canale JDC Clan. Che portano giochi su Clash Royale, Black Ops, Battlefield e FIFA. Mi raccomando. Scendiamo. E facciamo un po' di casino. Non ho sentito nulla. Visto che sei una puttana ti tratterò come tale. Esatto. Dopo vai anche a fare qualcosa di zozzo con altri uomini. Ti prendo a calci nel culo. Mi dispiace amico ma devi volare via. Ma non con Rovazzi e Gianni Morandi. Dai amico, ce la puoi fare. In paradiso devi volare. O in purgatorio sempre se devi scoltare qualche pena, ovvio. Apriamo la cella frigorifera. E facciamo un bel graffito. Così con la gran gnocca per iniziare. Molto guapa. Una bomba. Peccato che non fosse Tina. Perché sarei stato onorato di averle fatto un ritratto. Di un gran pezzo di ragazza sexy e bella come lei. Passiamo qui sotto. E siamo di nuovo qui. Facciamolo così ora. Ah, carino. Non è male. Ci sta di brutto. E di bomba anche. Ah, ho finito la vernice. Ma il pezzo è finito in tempo. Ecco qua altri pesta carne. Anche non è finita la partita degli Stunners. Alle nove e mezza dopo che ha giocato Juve contro Real Madrid. Anche loro, oltre i banner, anche i macellai della macelleria sono grandi fan degli Stunners. Sì, 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 sì. Apri la porta. Bravo train. Facciamo un graffito così. Così. A posto. Oh, un potenziamento per la bomboletta C'è qualcosa che non mi convince Questo non ti convince A proposito signor macellaio Voglio un quarto di bue Un po' di manzo E la tua carne Ti prendo a cacci nel culo Esatto Train è solo un nome in codici Ma il mio vero nome è Hannibal Lecter Lo psicopatico che mangia anche gli umani Se non sai menare un ragazzino Allora fatti licenziare subito amico Ti insegnerò le buone maniere E io ti insegnerò Come prenderle da un ragazzo Come me Dai forza Combatti come una checca È così Ci vediamo Buonanotte E vai In ferie Troppo lavoro ti dà la testa Mentre io continuo la mia impresa leggendaria Per lo speciale un milione di iscritti Nella versione Per modo di dire Per modo di dire un milione di iscritti Faccio Ma sì L'avete capito Prima Quando facevo il pinto youtuber Per lì all'inizio E' a posto E' a posto Vediamo se ci sono altri bei gratuiti da fare Qua chissà se ci sono stato Qua chissà se ci sono stato o no Ma ci posso andare subito Togliamo la grata E caldiamoci di sotto Facciamolo così Grandissimo E facciamolo lì Con la gran bella ragazza A posto No i cck ioli No non c'è nessuno qui Mi costringi a passare Tranne te stesso Ti prendo a calci nel culo E voi vi dovreste definire forze spazie Speciali? Ma fatemi il piacere Buonanotte Così E voi non mi rompete troppo i coglioni E fate i finti agenti non pagati Mi dispiace ma niente fotocamere Grazie O video Forza Non sai fare di meglio Ultimo avvertimento Non vorrei essere nei tuoi panni Dai crepa 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 Cadi a terra come un sasso E te Lasci Non ti mettere troppo in mezzo E fatti un po' i cazzi tuoi Buonanotte Buonanotte Ora pensiamo a te No no niente fotocamere No no niente fotocamere Niente foto per me Grazie Pare che sia morto Non ancora Ora sei a posto E voilà Passiamo di sotto Per bene Vabbè facciamo fuori questi Facciamo fuori quelli che ci sono all'interno E finiamo via Attento non fare niente con quell'uncino Capitano uncino Mai far imbuffalire dei tori Specialmente questi qua feroci Ti prendo a calci nel culo Dai 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 Ti ho fatto fuori Non sai cosa ti aspetta Oh che bel calcio la schiena E mi è rovinato La mia epica scena Ammanettatelo Ammanettatelo Adesso A posto Caspita Siete davvero persone difficili voi Colpa mia Ammanettatelo 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 Paner in realtà significa anche violenti E mai rispettosi Capito Sfida pre-rom Conclusa con successo Non qui Qui si però La scritta train colpisce Niente da fare Letteralmente Qua mi sa che non posso Forse potevo fare qualcosa Ma ormai non lo può più fare Qua mi sa che non posso Qua posso e come Colpa mia Dai ancora uno Ce la possiamo fare E abbiamo vinto Noi Come la canzone di Grido Facciamolo così Guardiamo un po' Guardiamo un po' attorno Facciamo la gnocca stratosferica Facciamo la gnocca Facciamo la gnocca Qua qualunque cosa mi stia sparando Non mi fa un nulla E' a posto A posto Oh c'è qualcuno di grido Oh c'è qualcuno lì Per riaffrontare una situazione Davvero volante Colpa mia Oh là Sei caduto come una pera cotta E ora E ora E ora Qui devo stare attento Perché anche il più singolo errore Può essere fatale Facciamo la gnocca stratosferica Facciamolo così E a posto Ok ora Ora scendiamo qua Senza farci dei danni Sopravvissuto Va bene Non mi sono fatto niente Però devo rifare tutto da capo Ok ora Saliamo qui Io ho cicchiato per l'ennesima volta Ok sali Stavolta ce l'abbiamo fatta Ok Barrabilità unitata Non ci siamo fatti danni Fisici o emotivi Però mi sembra che da qualche parte c'era Quello Il brano e il pad Preso E facciamo qua un bel grappito No No Grazie a tutti. Bravo treno, non cadere di sotto. Qua mi zè che non posso scendere. A posto, non mi sono fatto nulla di grave. Alta! Caspita, che bue! A posto, non mi sono fatto nulla di grave. Non ci contare, ciccione di merda. In confronto a te, ciccio gamer e Marco di Saludandogno, sono magrissimi e grandi uomini. Tu sei solo un ciccione con problemi mentali. Forza, vola! No, volevo farti volare via! Preparati! Farò un... Prendi questo! Ridipingerò la stanza col tuo sangue! Stai all'ora! A posto! 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 bene amici terrestri il video di oggi termina qui se vi è piaciuto mettete un bel like un commento ed iscrivetevi al canale io intanto vi ricordo come sempre di iscrivervi al jdc clan e noi intanto ci rivediamo con un nuovo video e shouts